Ciao ragazzi, stavamo bevendo qua con alcuni amici questa gran reserva di famiglia Cava 2017 Ambrut Nature, un certificato bio molto valido in questo caso e se vi capita comunque sentiteli Cava, ma per un buon Cava dovete spendere minimo 25 euro, non è il Frexinet che trovate 5 euro nei supermercati, però vale la pena di assaggiarli perché non esiste solo lo champagne, comunque vi dico solo questo, l'avete presente quando nei corsi vi spiegano che nel bicchiere ci sono le lacrime, le gambe eccetera, chiamatele come volete, vi faccio vedere invece una cosa che non vi diranno mai nei corsi, guardate bene questo bicchiere, riuscite a vedere queste gocce? Queste gocce qua, sapete cosa sono? Questo non ve lo diranno mai nei corsi, non ve lo diranno mai, queste cose le sanno solo quelli che veramente sono sul bicchiere tutti i giorni e che lavorano dentro le cantine. Allora, qui abbiamo bevuto chiaramente questo Cava che è un Cava molto minerale, è un Cava che ha una sapidità importante, la sapidità, quando trovate i vini che hanno una certa sapidità, lasciano sul bicchiere queste gocce e guardate che le gocce sono fuori, attenzione, adesso qui non riesco a fare vedere, guarda, vedi? Io passo la mano fuori dal bicchiere, guarda, le gocce sono dentro, vedi che rimangono, vedi? Questa è la sapidità, vedi? Adesso passo la mano chiaramente e tutto svanisce, ok? Questa è la sapidità, quando trovate dei vini che hanno un certo contenuto di sale, insomma che hanno una certa sapidità, sul bicchiere lasciano queste gocce, che non c'entra niente con le lacrime, quello è un altro discorso, ok? Questo nei corsi non ve lo dicono. Ciao ragazzi!